il buongiorno dalla redazione di news cappuccino brosce siamo arrivati all'edizione del 9 marzo 2022 ancora una volta insieme per quanto concerne l'analisi lo sfoglio di quelli che sono i quotidiani oggi in edicola partendo dall'analisi delle prime pagine diamo la buona giornata anche a tiziano campigotto che non vedete ma si trova in regia pronto a seguirci accompagnarci per quanto riguarda la parte tecnica ricordiamo possibilità di interagire il numero è sempre in sovrimpressione è possibile inviare messaggi con commenti considerazioni al numero 327 94 39 574 ricordiamo che ogni circa quarto d'ora seguiremo le notizie in diretta per quanto riguarda la guerra in europa conflitto rispetto all'ucraina proprio al rientro dalla pubblicità ci aggiorneremo con le news in tempo reale prima di tutto però andiamo con quelle che sono oggi le prime pagine dei giornali che troviamo in edicola partendo dal messaggero veneto ancora guerra in europa si parla del caro energia altre aziende si legge verso lo stop delle attività faber civitale del friuli zlm maniago e rallentano la loro produzione poi alla abs cassa integrazione per un migliaio di dipendenti nel centro pagina invece l'immagine ancora con profughi ucraini in fuga per quanto riguarda ancora il conflitto si parla sotto in breve anche di industria dalle acciaierie all'automotive la mappa della crisi accanto accoglienza test ai profughi non saranno fatti al confine test e controlli sanitari quindi saranno affidati alle aziende sanitarie che ospiteranno proprio nei loro covid hotel che vedremo vanno a riaprire gli aiuti ieri pomeriggio l'annuncio il vice governatore della regione parte dal friuli venezia giulia quattro camion carichi di medicinali proprio ieri dalla bassa friulana questi quattro tir carichi con tutto ciò che è necessario oltre ad attrezzature sanitarie poi oggi all'interno del giornale abbiamo il messaggero veneto scuola l'inno pacifista degli studenti nessuno merita di soffrire la spalla di destra ci riporta alle cronache in provincia andiamo subito a vedere cosa succede a udine nel titolo leggiamo scoppia una tubatura allagamenti e disagi ieri in piazzale osoppo con l'immagine poi correlata poco sotto si ampia il parcheggio dell'ospedale santa maria della misericordia di udine ci sono altri 118 posti auto art a terme un tetto in fiamme una donna rimane senza la sua casa pagina 27 la news di cronaca ma poi subito in prima pagina ancora una foto rispetto l'abitazione a fuoco il golf club di tervisio la famiglia dello chef vende il ristorante il taglio alto della prima pagina del messaggero ci riporta ancora due notizie si torna a parlare del conflitto in europa zelensky dice non accettiamo ultimatum siamo pronti a trattare sul donbass e la crimea biden embargo degli stati uniti su petrolio e gas dalla russia ancora buongiorno 9 marzo siamo in diretta alle 6 33 del mattino andiamo con il gazzettino subito a vedere le principali notizie riaperti i covid hotel per i profughi serviranno isolare le persone positiva il covid 19 non ci saranno controlli sanitari al confine tutto dovrà essere preso in carico dalle singole aziende sanitarie fino a ieri sono entrati in friuli riporta fedriga 12 mila persone fuggite dalla guerra e ancora il governatore il peso però ora non deve gravare su di noi questo è il suo appello al governo il pericolo come difendersi dei possibili attacchi hacker monito che arriva dal vertice dell'azienda friulana bintech che oggi appunto alla pagina 5 ne fa un vero e proprio speciale con tutti le indicazioni a riguardo la sindaca di trasaghi rosa con le spine per le scuse serve tempo elezioni voto in due giorni alle prossime amministrative la prossima tornata elettorale in ben 33 comuni della regione il tuberotto invece nel piazzale osoppo che rimane allagato siamo a udine lo vediamo l'immagine rispetto al guasto le riparazioni che non termineranno prima di domani scrive il giornale sotto il titolo tuberotto piazzale osoppo allagato una fontana ad acqua improvvisamente apparsa ieri mattina nel piazzale dove una conduttura dell'acqua potabile è esplosa a resia dove si parla russo ma ospitiamo gli ucraini rese un puntino sulla cartina geografica che diventa un segno rosso sui libri di storia il caso l'azienda dove da anni convincono ucraini convivono ucraini e russi alla depò piccola azienda di spedizioni import export di zopla oggi l'articolo all'interno del giornale a loro dedicato taglio basso in friuli una tassa per la casa diversa al posto dell'imu e poi udine giardino ricasoli e parco rimembranza rimessi a nuovo con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza l'annuncio del sindaco fontanini chiudiamo la prima pagina del gazzettino con tre notizie flash taglio alto ancora salgado con i senza terra 50 foto in bianco e nero al castello di artegna teatro bassa frilana cervignano laura morante incontra piazzolla nell'altro mondo calcio serie a già già lo regista contro la roma in campo si rivede newtink allora pronti per vedere anche la prima pagina del quotidiano il piccolo oggi apre ancora una volta con la guerra in ucraina l'accordo per mig polacchi in base americana in germania kiev quindi apre al compromesso usa embargo sul petrolio zelensky possibilista su donbass cremea nato la cina spinge per l'intesa l'immagine oggi di centro pagina dedicato ancora una volta alla guerra con una giovane ucraina in centro proprio per profughi ricavato in una scuola superiore polacca sotto in flash abbiamo diverse notizie reportage in fuga da irpi in una catena che non lascia indietro nessuno la storia gli autisti della pt 1200 800 chilometri percorsi in autobus per portare l'aiuto solidarietà accolti a lubiana 67 musicisti dell'orchestra dei giovani poi sanzioni busapest budapest sofia dipendono dall'energia russa il fronte ora si divide la spalla di destra invece ci riporta alcune notizie proprio legate alla città di trieste si dicono conduse le verifiche sui binari del tram a giugno ci sarà il test finale rispetto a queste le verifiche si sono appunto concluse vediamo i nuovi binari in un'immagine poi oltre 36.000 le bici prelevati in un anno riguardo al bike sharing questo servizio poi descritto alla pagina 21 l'ex calciatore germani è morto dopo l'infarto un torneo ricorderà l'uomo mario germani del cui volto riporta subito il giornale il progetto del padel in portovecchio è stato fermato da un ricorso chiudiamo la prima pagina con il taglio alto l'imu diventa un tributo regionale scatta il confronto con i territori e con salvo al governo dice nel piano nazionale bisogna inserire anche gli aeroporti diamo uno sguardo all'informazione nazionale partiamo con il corriere della sera tutti i giornali oggi in edicola anche appunto rispetto all'italia vanno ad aprire con l'attacco all'ucraina tratto non mi arrendo zelensky dice un intese è possibile ci sono ancora bombe sulla città biden e johnson dichiarano stop al petraglio dal petrolio da mosca poi la ritorsione di putin la guerra di ieri è l'approfondimento poi appunto alla pagina 12 immagine di centro pagina militari ucraini aiutano una donna a fuggire sotto la nevicate ad irpin per cercare tentare di metterla in salvo ancora a destra alla spalla quei bambini che perdono parole sogni si parla di questi bimbi almeno un milione in fuga da quel territorio accompagnato da una immagine poi ancora reportage tra gli sfollati al gelo di irpin via dai cecchini catasto caos in commissione il governo si salva per un voto è un risveglio vero è un'altra domanda che si pongono con poi la risposta all'interno ma andiamo invece con la repubblica repubblica apre ancora con questo titolo l'esodo sotto le bombe scrivono così proprio a margine accanto a questa immagine ancora una volta con bimbi come già abbiamo visto sopra in fuga dalle città titolo biden stop al petrolio gas da mosca il cremlino però reagisce dicono il divieto di import export per tante aziende si riporta il caso il video che ha fatto il giro del web rispetto a matteo salvini per quanto concerne il suo viaggio il sindaco che lo allontana estrae una maglia con il volto di putin e dice salvini io non la ricevo sotto andiamo invece con la stampa chiudere l'informazione legata anche le prime pagine sangue sulla trattativa ancora la stessa immagine che già abbiamo visto poco sopra una donna che viene messa in salvo ancora dai militari ucraini queste le principali notizie di oggi del quale seguirà sicuramente l'approfondimento tra meno di due minuti sia riguardo i giornali in edicola oggi che troverete ma anche con le notizie in tempo reale dalla notte e le ultimi aggiornamenti flash detto ciò ci fermiamo un momentino ricordiamo il numero per interagire con noi grazie per ancora i messaggi che già stanti stanno arrivando 327 94 39 574 ci ritroviamo qui tra poco ancora con news cappuccino e brioche ancora buongiorno vediamo già tanti messaggi buona giornata a tutti florence maniago ciao florence sempre velocissima poi il messaggio di max che tra un po leggo e tanti altri max arrivo andiamo subito però a preparare due cose prima di tutto la ripartenza con il messaggero veneto dopo la pubblicità andremo ad approfondire tutto ciò che abbiamo appena visto per sommi capi velocemente in quelle che sono oggi giornali che troverete in edicola quello è pronto allora andiamo a fare due cose prima leggere un po di messaggi dare saluti alle persone che ci seguono fedelmente da facebook youtube come diciamo sempre anche i vari streaming saluto le persone all'estero buongiorno la germania la francia a melbourne in australia e tanti paesi nazioni collegate con noi sono tantissimi ancora gli italiani non solo del nord est ma proprio dell'italia che si stanno affezionando la rassegna e vogliono rimanere aggiornati un po con quello che succede qui in casa nostra detto questo allora dobbiamo andare a riprendere anche le ultime informazioni riguardo a quelle che sono le notizie che tra un po andremo ad apprendere le ultime dalla notte dalla notte faremo un piccolo riassunto oltre ai vari messaggi appunto che leggo buongiorno roberto la situazione è incredibile dice meno male che mi aspettavo qualcosa di simile ho rivoluzionato i portafogli nel 2020 ora i miei clienti gioiscono limitatamente all'andamento del loro portafoglio ps non la guerra quella non me l'aspettavo proprio si deve max e buongiorno lì un consulente finanziario quindi si parla qui di economia giusto max ancora buongiorno a quanti vedo lo stanno donando un po di stelle grazie a mariana a tutti gli altri davis eccetera veramente micaela che appunto sostengono la pagina donano qualche stellina commenta da poi ci sono coloro invece che vanno anche a condividere il video legato i social netto quindi a facebook anche per questo vi ringraziamo tantissimo ricordiamo che siamo in diretta per quanto riguarda il web ma stiamo attendendo di ripartire proseguire con la rassegna perché in contemporanea viene trasmessa sul digitale terrestre in friuli venezia giulia veneto orientale se siete residenti in questa fascia di nord est sul canale 11 delle telecomando altrimenti ci seguite tranquillamente appunto anche sui social ora tiziano amici e roberto dobbiamo ripartire torniamo in diretta sempre sul digitale come ho poco fa annunciato news cappuccino brosci riparte ancora il buongiorno alle persone collegate con noi in questo 9 marzo 2022 un nuovo aggiornamento alle 6 43 del mattino sempre con uno sguardo puntato a quelle che sono le notizie dell'ultima ora del quale tra un po ci prenderemo un paio di minuti per leggerle rientriamo ma procediamo subito con l'approfondimento ringraziando anche già dei tanti messaggi che sono pervenuti in redazione al numero che in sovra impressione messaggero veneto facciamo un piccolo report riguardo ancora la guerra in europa prima di occuparci di informazione locale nessuno resti indietro è il titolo appunto che apre la pagina seguente per ripartire da irpin a kiev una catena di persone impegnata a far evacuare tutti a qualsiasi prezzo poi russi che continuano a sparare sui corridoi riferiscono non imploriamo aiuto dovrebbe essere questo scontato tante anche oggi le immagini e le testimonianze proprio per quanto riguarda foto che in parte già vi stiamo mostrando con persone anche anziani che sono stati così fatti allontanare da alcune strutture dopo la loro messa in sicurezza e trasportati pure da alcuni soldati nella fuga vediamo civili e volontari armati che cercano di portare via numerosi feriti dagli attacchi dell'esercito russo qui in avanzata proprio verso kiev pagina seguente ci si occupa pure ancora della questione profughi tutti in fila alla frontiera europa aiuta l'ucraina migliaia sono le donne bimbi al freddo in attesa di entrare proprio in romania dicono siamo costretti a metterci in viaggio dovete aiutare zenevski a difenderci questo è il loro appello vediamo 43 foto profughi ucraini che attendono sotto alla neve il permesso di entrare in romania al valico di siret la diplomazia ancora abbiamo l'offerta leggiamo di zenevski proprio ai russi compromesso sul donbass e la cina che spinge verso un'intesa il presidente ucraino dice invasione criminale dialogo sì ma no alla resa ancora così che sente macron e scholz venerdì avremo il vertice lavro kuleb in turchia vediamo pure i loro volti proprio così macron e anche come abbiamo visto e scholz il cancelliere della germania punto strategico superiorità aerea e cyberware le disfatte della russia pagina accanto si parla pure di dissidenti però in fuga parliamo nell'analisi di scrittori manager informatici in cerca di una vita all'estero criticare l'aggressione può costare infatti 15 anni di carcere garantiscono dalla russia poi insta bull e tbilisi si parla russo e come ai tempi di lenin queste sempre le loro dichiarazioni petrolio intanto al bando andiamo a vedere cosa succede nella pagina seguente biden che va a stoppare l'import di greggio russo la libertà costa la polonia invia i suoi mig agli usa per poi girarli all'ucraina vediamo l'immagine la foto del presidente joe biden durante il discorso alla nazione con lo stop il petrolio mattarella torniamo in italia chiede di difendere la libertà che ha un costo il capo dello stato dice non è tollerabile che qualcuno voglia comportarsi secondo i criteri di potenza di secoli passati un sindaco polacco contro matteo salvini le immagini e il video la notizia fa il giro del web ieri pomeriggio disavventura per quanto riguarda il leader leghista in una città proprio a confine con l'ucraina lui però ribatte il matteo dice non sono qui per fare polemica ma contro la guerra il sindaco che estrae dal giubbotto una maglia come vediamo nell'immagine con il volto di putin e dice a salvini non la ricevo con danni putin questo il sindaco che mostra la maglietta che salvini poi una volta indossò proprio a mosca il gesto non è stato dimenticato proprio qui a confine torniamo in friuli venezia giulia a quelli che sono i riflessi della guerra in regione eccolo qui il titolo che oggi ha aperto la nostra rassegna stampa alle ore 6 e 30 il costo dell'energia è diventato insostenibile cassa integrazione alla bs interesserà tutta la forza lavoro ci sono oltre 3.000 lavoratori in particolare poi 600 nel laminatoio e anche nella acciaieria parliamo di una cifra su tutte 710 euro megawatt ora la quotazione di ieri sul mercato internazionale le settimane in cui è previsto il ricorso poi all'ammortizzatore all'interno abbiamo l'approfondimento su questo annosa questione ancora del caro legato all'energia e poi portano gara da mariupol le ultime navi vediamo l'immagine del centro di controllo dello stabilimento a bs durante la visita del ministro dello sviluppo economico giorgetti avvenuta nell'agosto del 2021 ma tra le aziende verso lo stop e in difficoltà spostandoci a civitale del friuli abbiamo pure la faber che ha le prese con il blocco l'azienda faber civitale è leader mondiale nella produzione di bombole sistemi per il gas alta pressione e ancora respiratori ad aria sotto lo scenario ancora descritto ed approfondito dal messaggero veneto dalla siderurgia all'automotive la mappa di una crisi che si sta allargando l'impennata dei costi energetici crea un effetto domino è impossibile garantire la redditività di quanto si produce queste sempre le parole di coloro che si trovano in estrema difficoltà per la situazione che stiamo vivendo ed ancora però non ci si ferma ancora volontariato solidarietà verso la romania ieri sono partiti da palmanova quattro tir camion carichi di medicinali sui mezzi incubatrici ecografi defibrillatori e poi altri strumenti l'assessore vice governatore riccardi dice il valore dei carichi è di 8 milioni di euro andiamo a vedere qualche immagine per renderci conto di cosa si tratta si tratta appunto di queste maxi camion ceccarelli per quanto concerne proprio la loro spedizione carichi carichi come abbiamo appena letto di tutto ciò che è necessario proprio per la messa in sicurezza e soccorso ai profughi vediamo un'azione proprio un frame mentre protezione civile volontari vanno a caricare con tutti i beni e la merce proprio questi tir poi ancora la partenza il vice governatore riccardi che ha voluto essere presente proprio quando la colonna è partita portiamo cibo farmaci così aiutiamo chi fugge dalla guerra il titolo della pagina canto donne che organizzano tante iniziative di solidarietà a pasqua inviterò a pranzo una famiglia ucraina riporta poi ancora una di loro vediamo appunto il volto delle donne che si stanno organizzando ma poi a livello pratico stanno così riempendo questi scatoloni sono cercando di fare ciò che possono per portare la loro solidarietà un grazie ancora un applauso a questi volontari che se ne stanno occupando niente test ai confini come inizialmente aveva chiesto fedriga ma i tamponi e l'assistenza sanitaria ai profughi vera data dalle aziende sanitarie in loco riaprono quindi i covid hotel per le persone positive al covid 19 il vertice tra regione e prefetti sull'accoglienza fedriga dice sono già transitati 12 mila persone si sono fermate nella nostra regione 700 profughi e ora sono ospitati tra i temi sul tavolo c'è anche quello dell'integrazione scolastica dei minori sappiamo che le scuole hanno aperto le loro classi proprio ai più piccoli l'incontro ieri come vediamo nella foto ad integrazione a trieste tra rappresentanti della regione prefetti delle quattro province del friuli dove si conferma che i test e l'assistenza verranno data proprio all'interno delle strutture sanitarie della nostra regione andiamo a chiudere con un'ultima notizia a livello nazionale eccola qui zero multa gli over 50 novax perché il sistema informatico va in tilt ancora nessuna sanzione quella prevista da decreto ovvero i 100 euro per chi over 50 non ha provveduto alla vaccinazione equitalia non ha ricevuto ancora i nomi degli inadempienti si parla di 60 mila nuovi contagi ieri da covid 184 ad eccessi a livello nazionale con questo allora prima di entrare in città a udine parlare dello scoppio ieri in piazzello soppo di questa conduttura idrica diamo uno sguardo anche il quotidiano al piccolo e poi proseguiremo anche con le notizie dell'ultima ora andiamo all'interno a vedere principali news da trieste dando ancora il buongiorno a chi è collegato con noi rassegna stampa in diretta 6 e 52 del mattino si sono conclusi gli interventi sui binari del tram l'esame decisivo a giugno la verifica sul posto dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie chiave per il successo nulla osta sulla riattivazione della linea ora ci saranno tutti i test anche delle carrozze vediamo un po di immagini proprio legate alla news poi focus almeno 36 mila le biciclette che sono state prelevate dal bike sharing da queste stazioni di noleggio nell'anno precedente 2021 dati sull'utilizzo del servizio sono stati riepilogati proprio dal gestore trieste trasporti il punto più gettonato è quello in piazza libertà dall'autunno 50 nuovi loculi si parla anche del cimitero di servola è stato presentato l'intervento del comune di trieste potranno essere seppelliti solo residenti i lavori dureranno circa un paio di mesi prevedono poi una somma un costo che ammonta 46 mila euro la particolarità geologica del terreno andiamo oltre ancora con altre informazioni si parla della prima udienza che è stata fissata al 27 aprile progetto del padel portovecchio è congelato per quanto riguarda un ricorso al tar la concessione quinquennale del comune impugnata dalla società sportiva che si è classificata proprio seconda nella selezione chiudiamo con l'ultima cosa il personaggio oggi abbiamo la seconda vita di sabbadin parrucchiere dei vip rinato dopo 42 giorni di coma un anno fa ci fu il drammatico incidente dello storico professionista era caduto da una scala di 3 metri post reanimazione un lungo periodo di riabilitazione per lui poi il settantenne aperto un salone in via giulia oggi l'approfondimento poi l'intervista sempre nel piccolo ora però diamo uno sguardo anche alle notizie principali che ci arrivano con l'edizione dello stesso giornale ma riservata per egorizia e anche monfalcone andiamo allora subito all'interno salutando le persone collegate ancora dall'isontino la prima notizia per egorizia subito sulla sinistra la leggiamo insieme il viaggio nella zona industriale la windows entra nell'orbita benetton nuove produzioni e più posti di lavoro la visita del sindaco ma anche dell'assessore bernobici all'ospedabilimento che produce il boero da 60 anni civello dice siamo pronti a collaborare per capitale 2025 ziberna a gorizia il villaggio della cioccolata eccole qui le immagini che allora ci resumono parte della notizia che abbiamo proprio così visto nel titolo nel 2022 le tariffe sono congelate e niente irpef pressione fiscale giunta e uffici sono al lavoro per il bilancio di previsione e riportano le famiglie sono in difficoltà è doveroso evitare gli aumenti e anche nuove tasse dicono no previsti tagli ma verrà preservato il settore welfare e soprattutto quello legato all'assistenza abbiamo il personaggio anche nell'edizione della gorizia monfalcone alla soglia dei 90 anni vi racconto la storia locale parliamo di attiglia colombo che nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro proprio sulla città accanto all'università un incidente in via alviano un vigilante sin auto è finito fuori strada pagina accanto le storie dal negozio antisignano alla farmacia il mondo del lavoro parla femminile premiazione in municipio a monfalcone di 12 storiche imprenditrici nella giornata internazionale della donna come già ieri più volte abbiamo ricordato 8 marzo le vediamo le 12 imprenditrici all'esterno del municipio proprio di monfalcone con lo con le autorità cittadine poi tutte con un buche in mano arriviamo quindi a monfalcone del quale il titolo d'apertura è questo l'ex sindaco di latisana diventa presidente dei revisori dei conti stiamo parlando di un volto noto alla latisana e che entra mette piede così a monfalcone parliamo di mica e la 7 voto in modalità segreta nell'ultimo consiglio comunale compenso risulta pari a 27 mila 800 euro all'anno quindi a organo scaduto eccola qui presidentessa mica e la 7 15 voti al primo scrutino altrettanti al ballottaggio già sindaca di latisana negli anni precedenti consigliera regionale di ara centrodestra vertice del collegio sindacale di banca medio credito che percepirà questi quasi 28 mila euro all'anno a pagina vicino invece si parla del caso dell'agosto 2021 la scritta blasfema sul negozio stallo indagini multa in evasa difficile individuare l'autore di questo messaggio led sulle vetrine di via duca d'aosta la novità invece arriva da ronchi si va alla riscoperta così scrivono nel titolo delle tracce dei romani con i cartelli turistici a soleschiano in piazza dell'unità e lungo via dei raparoni piazzate le indicazioni blocchi lapide nella braida anche dei dottori e andiamo a chiudere invece per quanto riguarda le ultime due pagine una notizia da corvonze e poi chiudiamo con grado recovery plan nessun progetto la verità del revisore dei conti gasparin annuncia dice troppi proclami e poca concretezza così niente fondi la replica di felcaro erano ammessi al bando solo i comuni più grandi le sue parole allora andiamo a grado viabilità nuove zone 30 nell'area della colmate lungo costa azzurra il comune sta studiando un progetto per limitare più possibile si dice così la velocità destinati a restare invece 50 chilometri orari lungo tutta la tangenziale insomma il futuro di grado è quello di una circolazione una velocità massima di 30 chilometri orari se ne parla oggi ampiamente proprio all'interno del giornale ancora a grado una nota lettera ai sindaci dalla fiab l'invito usare la bicicletta ma l'isola è già tra le migliori d'italia riguardo proprio all'uso del due ruote con questo ci fermiamo solo un attimo siamo arrivati in questo preciso momento a 30 minuti di trasmissione riprenderemo tra poco proprio dopo qualche piccolo spot il tempo se volete approfittarne per bere preparare un caffè torneremo con le notizie dell'ultima ora e della notte andremo quindi con gli aggiornamenti in diretta dall'ucraina e poi invece il gazzettino perché è stato stabilito come verrà affrontata la situazione sanitaria ed accoglienza dei profughi almeno 700 già nella nostra regione quindi nessun test a confine ma tutto a carico delle aziende sanitarie compresi i test e tamponi cure legate al covid 19 ne parliamo se volete tra poco ora piccolo break rimango collegato con le persone che ci seguono su youtube facebook streaming web buongiorno a voi grazie per le condivisioni commenti messaggi le stelline le condivisioni appunto anche legate a questo vado subito a preparare però il gazzettino del friuli perché dobbiamo spiegare cosa succede riguardo alle riaperture a carico proprio della regione dei covid hotel cure e tamponi per quanto riguarda appunto la cura e l'assistenza ai profughi così si è deciso quindi niente test ai confini come auspicava inizialmente invece il nostro presidente della regione massimiliano fendriga detto questo però devo preparare quindi visto che ho un minuto a disposizione anche le notizie dicevamo dell'ultima ora così poterle leggere vediamo solo i titoli poi vado ad approfondirle leggere quando torniamo in tv tra un minuto e mezzo Biden Putin non vincerà non riuscirà a prendere l'Ucraina Russia minaccia di chiudere il gas di scenari le conseguenze Kiev russi torturano staff centrale nucleare zaporizzi alle forze di approbazione torturano il personale della centrale nucleare qua riperiscono poi 007 USA per Putin guerra che non può permettersi di perdere Ucraina leader arabi emirati rifiutano la telefonata di Biden queste sono le principali news che sono arrivate già dalle 6 del mattino che stanno occupando le agenzie stampa che ci arrivano in diretta del quale tra un po' andremo ad approfondire volevo leggere però ancora qualche messaggio come quello invece di Giuliana che ci segue ci scrive per la prima volta da Gorizia dice Roberto buongiorno grazie per la puntuale informazione ci auguriamo che tutto finisca senza ulteriori conseguenze si penso che lei si stesse proprio riferendo al conflitto in Europa giusto Giuliana fammi sapere se mi stai seguendo sul web non so se collegate in tv o in internet in tv abbiamo un attimo di pubblicità se fosse così non mi starebbe sentendo però Tiziano già mi interrompe giustamente invece Roberto guarda che dobbiamo ripartire per quanto riguarda la diretta sul canale 11 allora torniamo in onda seconda parte della nostra trasmissione queste news e cappuccino broci il buongiorno e la buona giornata le persone collegate con noi in diretta le 7 02 del mattino oppure più tardi dopo le 8 30 con la possibilità di seguirci anche in replica siamo arrivati ora a un minuto del così dedicato a quelle che sono le notizie della notte dell'ultima ora che ci arrivano in tempo reale leggiamo insieme alcuni titoli per poi procedere invece con il gazzettino come già vediamo pronto proprio sullo schermo guerra in ucraina da Burger King ad away in quali aziende non hanno lasciato la russia abbiamo un aggiornamento proprio esteso durante la notte di tutte quelle che sono le aziende che invece hanno deciso di chiudere proprio di abbassare le serande in russia come ad esempio tra queste mcdonald's tabacca coca cola pepsi e tantissime altre ma ancora notizie recenti biden putin non vincerà non riuscirà a prendere l'ucraina questo deve essere chiaro l'ucraina non sarà mai una vittoria per putin putin potrebbe essere in grado di prendere una città ma non sarà in grado di tenere il paese lo ha scritto poco fa il presidente degli stati uniti joe biden lo ha scritto su twitter russia minaccia di chiudere il gas gli scenari e le conseguenze abbiamo upgrade aggiornamenti riguardo poi notizia che già abbiamo preso nei giornali e ancora notizia dell'ultima ora 24 minuti fa da chieva arrivano così notizie secondo cui i russi stanno torturando lo staff della centrale nucleare secondo informazioni in nostro possesso occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici lo ha annunciato nella sua pagina facebook il ministro dell'energia ucraino erban alushenko questo è il suo messaggio scritto sul social che abbiamo appena riportato con la tortura di questi operai ancora 007 usa per putin guerra che non può permettersi di perdere altre notizie invece più meno recenti ucraina leader arabi e miratti rifiutano una telefonata di biden questo per quanto riguarda gli aggiornamenti dall'ucraina e russia poi ovviamente se ce ne sono altri ci interrompiamo per leggerli in diretta in tempo reale torniamo ancora con la nostra informazione torniamo in friuli venezia giulia vedere però i riflessi di questi conflitti e andiamo subito a parlare dell'emergenza profughi tornano infatti i covid hotel si riaprono perché test tamponi assistenza sanitaria non verranno dati spletati subito al confine ma a carico dell'azienda sanitaria serviranno quindi a isolare i positivi tutti i loro contatti niente vaccini e tamponi al confine controlli saranno effettuati dal personale sanitario alle singole aziende fedriga dice attenzione il peso non gravi sulla nostra regione scrive il gazzettino rispetto a questo tipo di preoccupazione sino ad oggi lo riporta sempre fedriga 12.000 transiti sono 700 gli ucraini accolti in regione che hanno chiesto la protezione appunto molti troveranno spazio pure nei covid hotel partiti i primi farmaci c'è anche lo iodio protezione civile in romania con quattro tir abbiamo già visto il camion nel messaggero veneto partiti proprio ieri da palmanova verso la romania all'interno un po di tutto rispetto a presidi sanitari dispositivi ma anche pillole allo iodio rispetto al rischio del nucleare ieri un vertice con i prefetti però dare la macchina dell'aiuto ai rifugiati quindi fedriga e ancora per quanto riguarda rappresentanti e prefetti hanno fatto il punto della situazione a udine si rompe l'amicizia con la città dimitrov salta il gemellaggio la città che si trova vicina proprio a mosca era già inserita in un programma di avvicinamento sindaco fontanini noi stiamo con il popolo ucraino queste sono le sue parole a margine della notizia poi riflessi ancora della guerra all'azienda frulana dove ucraini e russi lavorano insieme l'impresa di spedizioni che si trova a zoppola da oltre 20 anni opera con i mercati dell'est titolare lino martin dice siamo una grande famiglia dove c'è confronto ma non c'è mai stato odio la cartiera coordenò un sì il lusso la salva dei rincari energetici i progetti di efficientamento energetico che già sono stati realizzati in tempi precedenti dall'esplodere il caso del caro energia in tempi non sospetti si potrebbe dire li stanno mettendo al riparo dall'aumento esponenziale dell'energia lo stabilimento si legge in una nota è energivoro ma la produzione di carte speciali per vini e moda viene comunque ripagata pagina successiva si torna ancora con il rischio hacker meglio investire un po di soldi per proteggersi prima il fondatore dell'azienda frulana la bintech dice le incursioni possono bloccare addirittura una fabbrica e poi il monito si sottovaluta troppo il pericolo e spesso l'operazione è vista come un costo e per riassumere dice è importante prevenire quelli che possono essere i principali attacchi del quale stiamo parlando proprio e rischi in questi giorni lo stop la zml di maniago fa tremare anche l'indotto l'autotrasporto in ginocchio si torna a parlare ancora del caro gasolio che nelle ultime ore addirittura ha superato il prezzo della benzina pressotto ha messi i crediti per 11 milioni di euro abbiamo l'udienza che viene rassunta nel gazzettino giardini ricasoli e rimembranza saranno rimessi a nuovo con i soldi del piano nazionale due storici parchi interessati da un progetto che coinvolge anche le roggi parcheggi poi il via libera parliamo di ben 5 chilometri di piste ciclabili comune di udine ieri ha trovato l'intesa annuncia con un comunicato mettiamo a disposizione 100 posti per profughi ucraini eccolo qui comune che mette a disposizione questo centinaio di posti la giunta fontanini ha formalizzato l'intesa con la prefettura di udine intesa appunto che si va ad aggiungere alle soluzioni che già sono state trovate con la quiete qui parlavamo almeno di altre 30 posti di accoglienza grazie a una residenza ai faggi che avevano già appunto divulgato notizia di 48 ore fa il guasto a udine che tra un po vedremo anche nell'apertura del messaggero veneto si rompe l'acquedotto in ghisa viene allagato il piazzale osoppo in città come vediamo nelle immagini tanti disagi ieri soprattutto e rallentamenti in seguito a questo foro profondo nell'asfalto che ha creato una rottura del tubo e i disagi conduttura ha ceduto per vetustali infiltrazioni rendono difficile la riparazione che sarà completata però non prima della giornata di domani la regione cambia le tasse sulla casa e roberti presenta il disegno di legge queste nuove imposte che ciascun comune potrà decidere in sostituzione l'imu si potranno estendere poi anche a varie strutture industriali per favorire gli insediamenti o gli alberghi per poi spingere pure il turismo alle prossime elezioni si voterà anche di lunedì piccoli comuni niente firme abbiamo altre news ci sono le regole dal consiglio regionale per votare in sicurezza manca solo la data per le elezioni amministrative dell'anno 2022 quelle che porteranno al voto 33 comuni del friuli venezia giulia con questo allora noi andiamo a chiudere con la notizia di cronaca prima di spostarci nel messaggero ricordiamo il tamponamento in a4 ieri a latisana nel tratto tra latisana e portoguaro purtroppo sono deceduti due dei quattro cavalli che erano appunto trasportati all'interno di uno dei mezzi che vediamo in una delle due foto a sinistra il tir a destra il furgone che trasportava cavalli che sono rimasti appunto coinvolti nell'incidente due sono morti in questo ennesimo schiantro tra tir nel lungo tratto maledetto dell'a4 che collega il friuli venezia giulia con il veneto subito nel messaggero vento ripartiamo da dove ci eravamo lasciati poco fa per quanto concerne la città di udine vediamo alcune principali news ripartendo ancora dallo scoppio per quanto concerne questa freccia che indica il punto in cui è scoppiata una condotta che allagata piazzale osopo la viabilità è stata subito prontamente modificata tanti disagi e rallentamenti l'intervento della polizia locale oltre ai tecnici rispetto all'acquedotto e poi ancora quella che è stata una mattina di passione per loro che non si concluderà prima di 24 ore così annunciano gli interventi non saranno conclusi presto scoppia la condotta allagata piazzale osopo disagi traffico e residenti alcuni cittadini che abitano ai piani più alti dei palazzi sono rimasti senza l'acqua ha ceduto una parte del manto stradale tra i semafori di viale volontari e anche via di topo polizia locale come detto ha chiuso ancora il traffico le auto in altre parti invece sono state fatte delle deviazioni la pagina seguente ci riporta la novità che arriva dall'ospedale di udine quello che vediamo è la mappa rispetto ai nuovi parcheggi per l'ospedale da oggi quindi saranno disponibili 118 posti auto lavori da 500 mila euro riconvertiti l'ex spaccio e pallone già individuata la ditta che poi andrà a realizzare ulteriori due lotti quindi lavori il campiere non si fermerà qui si parla ancora di accoglienza dei profughi in fuga attraverso polonia e romania ci è crollato addosso il mondo abbiamo le testimonianze davanti alla questura una ventina di donne bambini ucraini ieri mattina disperati commossi penso nei parenti rimasti in patria vediamo proprio l'immagine rispetto alle donne appunto con bimbi subito in questura per tutte le pratiche gli atti formali chiaramente da espletare così come vediamo stranieri in coda tra loro ci sono pure gli ucraini nelle foto abbiamo visto anche olga e julia avvicinati dal giornalista che ha raccolto le loro testimonianze testimonianze tra un po ripartiremo con art a terme la montagna la cronaca e tutta la provincia di udine ma prima di farlo ricordiamo il numero per interagire con noi grazie per i tanti messaggi che purtroppo abbiamo meno tempo per dedicarci alla loro lettura ma li leggiamo comunque poi e quindi grazie per farlo se volete continuare a scriverci 327 94 39 574 ora tiziano che si trova in regia la parte tecnica lancia qualche piccolo spot e profittiamo per espirare un momentino voi preparate un caffè fate colazione insieme a noi noi torniamo qui ancora poi con notizie dell'ultima ora seguiamo in diretta il conflitto in ucraina e poi andiamo con le province di udine e pordenone a tra poco allora andiamo a prepararci anzi è già pronto il messaggero perché proprio l'avevamo posizionato sulla montagna dove ci siamo fermati un attimo e quindi approfittiamo per leggere un po di messaggi dai abbiamo giusto un minuto a nostra disposizione sia messaggi che vedo qui e poi vedo altre notizie dell'ultima ora guerra in ucraina altre notizie che continuo ad arrivare dal quale appunto tra un po ci prenderemo un altro minuto per leggerle ancora buongiorno a chi mi sta commentando scrivendo vedo in questo momento su messenger non leggo in diretta i messaggi messenger per cui no non perché non voglia farlo questo è un avviso così di servizio un annuncio di servizio ma perché non è pratico per quanto riguarda i display aperti qui sotto abbiamo whatsapp col numero che sempre in sovra impressione voi che non siete in pubblicità non siete in tv ma mi state seguendo dal web lo potete utilizzare per scrivermi perché invece nella pagina facebook i commenti sono così dedicati solo a chi ci segue a chi è abbonato con noi abbiamo dato pure questo ulteriore servizio ai sostenitori mentre invece mediante whatsapp tutti possono contattarci dicevamo quello ma poi ancora i commenti per chi ci sostiene nella pagina sia su facebook sia su youtube e poi per quanto riguarda invece messenger no non è possibile farlo o meglio scrivete ma non li leggiamo in diretta questo per chi sta continuando a inviare i propri messaggi anche testimonianze perché ce ne sono prima ho visto alcuni di interessanti anche rispetto alle vostre considerazioni su quelle che sono le notizie del giorno volevo leggere il messaggio di alessandro che era delle ore 7 11 quindi risale a circa quattro minuti fa e che sono visto così addocchiato velocemente alessandro mi scrive per la prima volta dalla città di codroipo quindi siamo nel medio friuli e dice roberto sono preoccupato ma questa corsa allo iodio si tratta di allarmismo è un fatto reale bene cosa come ti devo rispondere sappiamo che ti rispondo così nel carico che ieri è partito da palmanova quindi stiamo parlando di quattro maxi camion tir verso la romania all'interno c'era pure anche delle terapie allo iodo quindi non si tratta di allarmismo ma si tratta di precauzione di prevenzione quindi si fa parte insomma anche di quella che poi è il decreto bozza del piano quindi per quanto riguarda il nucleare rispetto a possibili conseguenze che noi ospichiamo non ci siano mai quindi nessun allarmismo nessun problema nucleare ma se dovessero esserci ci sono e quindi già anche queste popolazioni vengono rifornite di questo va bene non so se è risposto alla tua domanda però c'è poco tempo per farlo tiziano mi dice roberto 5 secondi torniamo in diretta canale 11 news cappuccino e brosce riparte ancora il buongiorno alle persone collegate con noi siamo all'ultimo spazio alle 7 16 di oggi 9 marzo 2022 con la nostra rassegna stampa come di consueto l'analisi sfoglio dei giornali e poi negli ultimi giorni è così abbiamo inserito le notizie dell'ultima ora quindi sempre uno sguardo al monitor con quelle che sono le notizie in tempo reale che ci arrivano proprio legate alla guerra in ucraina ora ripartiamo ci eravamo fermati un momentino per una piccola pausa andiamo con così il sfoglio del messaggero veneto per completare l'intera provincia altri comuni oltre a quello di udine che già abbiamo visto art a terme cronaca abbiamo un incendio fiamme una donna rimane senza la sua casa è successo nella frazione di avosacco siamo in via carducci sono stati vicini a dare l'allarme e poi a chiamare i vigili del fuoco come vediamo proprio l'intervento a cura loro e poi le fiamme lingue di fuoco che escono dalla abitazione qui ad art a terme sotto siamo a tolmezzo l'azione sostiene l'ex sindaco brollo spacca il fronte di centro-sinistra e sempre invece tolmezzo cronaca bloccate due ragazze trestine del 1983 e del 90 sul quanto riguarda in montagna a mille metri sono state prontamente soccorse mentre erano in difficoltà era arrivata la chiamata al numero unico dell'emergenza 2112 andiamo a tervisio la famiglia di page si arrende in vendita in ristorante del golf club lo chef che ricordiamo era scomparso nel marzo 2021 aveva portato il locale al top il sindaco speriamo il passaggio sia rapido a sinistra duro colpo per la val canale con la decisione della chiusura del golf club restaurant e a destra ancora in ricordo dello chef che aveva portato ai vertici grazie alla sua cucina lo storico locale ora in chiusura a paluzza celebrate le donne e le portatrici carni che poi a tervisi ancora addio all'autista moschitz conobbe sua moglie durante un viaggio in bus era innamorato scrivono nelle prime righe del suo lavoro claudio che per 40 anni ha prestato servizio come autista di pullman tanti amici colleghi ma anche passeggeri lo ricordano come un uomo dai modi gentili che sapeva mettere tutti a proprio agio si procede con ulteriore informazione stiamo sfogliando il messaggero veneto in diretta andiamo con 300 altre news qua si parla di tensioni in consiglio per la seduta sospesa uno spreco di soldi l'opposizione dice rinvio causato da inadempienze della giunta oggetto a forma di pistola tra la posta beltrame denuncia quello che abbiamo appunto letto anche ieri mattina rimanzacco pochi medici di famiglia la minoranza in pressing per risolvere la problematica mentre a cividale del friuli vengono riaperte le tre sale operatorie buone notizie per la sanità in questo territorio c'è l'incognita ancora dell'emergenza che non torna in linea quindi con le indicazioni che sono state fornite dalla regione al sindaco che vediamo in una foto daniela bernardi lunedì sono state riattivate le tre sale operatorie del presidio ospedale appunto di cividale del friuli ma ancora per troppo si attende la riapertura dell'emergenza a pagnacco la vice sindaca dice una trappola riporterò il bilancio in aula sandorvi commenta malumore in maggioranza messa in atto una scorrettezza la definisce poi dissidente gerussi non c'è ascolto l'assessore pecile ero assente giustificato vediamo pure i loro volti rispetto alla notizia che abbiamo già riassunto nel titolo medio friuli codroipo manca personale a sp moro il cda tende la mano ai sindacati incontro tra i vertici dell'azienda i referenti del new sind cgl funzione pubblica ieri mattina per chi ci ha seguito abbiamo letto proprio la denuncia del sindacato quando diceva gli operatori sanitari sono in forte difficoltà all'interno della struttura condivisa così la necessità di dotare la casa di riposo di un direttore ma soprattutto nuovi operatori sanitari codroipo forza italia divisa tra vecchi e nuovi alleati civiche progetto fvg verso il centro l'incontro tra i vertici regionali di forza italia e la base di codroipo quindi annunciano c'è stato abbiamo un decesso ancora a codroipo è morta 93 anni marisa lenarduzzi oggi avremo l'ultimo assaluto alla donna vedova soramelda giovane sera diplomata maestra e poi ancora il padre scomparso nel 54 marisa aveva sposato il dottor silvano soramel medico di famiglia fino al 1972 bassa friulana si riparte con san giorgio di nogaro scuola da ristrutturare ma il comune pensa invece di demolirla e poi ricostruirla il problema della sicurezza sismica alla nazario sauro dalla regione ci sono almeno due milioni di euro per tutti gli interventi ed ecco che messaggero va un po a riassumere quella che anche la composizione dell'edificio scolastico 137 studenti 76 quelli dell'infanzia ai primi passi 101 almeno quelli della materna paritaria morto giuseppe muradore ex tecnico del comune protagonista della città siamo a palmanova aveva 80 anni ha lavorato come responsabile dell'acquedotto sindaco dice e lo finisce come una persona speciale a cui piaceva stare con la gente vediamo l'immagine di giuseppe muratore oggi con il cordoglio per la sua scomparsa quando dicono amava palmanova e proprio tutti i suoi abitanti in sempre a palmanova l'universo femminile con donne e dintorni si chiude sotto la pagina con cervignano la piscina che fa ancora discutere in primavera il via i lavori è stata presentata la domanda di finanziamento regionale per circa un milione di euro per la nuova piscina cervignano sorgerà nell'area delle ex caserme chiudiamo con la tisana sono state nominate alla tisana cinque commissioni abbiamo spazio anche opposizione non eletti si occuperanno di agricoltura ambiente urbanistica economia pari opportunità il sindaco dice maggioranza di ex candidati per le idee presenti anche nei loro programmi vediamo quindi ludovico conte e raffaella drius proprio rispetto all'integrazione della news sempre dalla tisana ancora incidente ne quel tratto maledetto della 4 tra la tisana e portoguaro ieri ulteriori invece scontro per quanto concerne tir e furgone dove purtroppo muoiono due cavalli in uno scontro sulla 4 violento come lo definisce il messaggero per cause ancora da accertare il tutto è accaduto verso le ore 11 si resa necessaria la chiusura del casello di la tisana per quanto concerne proprio l'autostrada 4 in direzione venezia palazzolo dello stella la sezione donatori festeggia 60 anni e poi scrivono ancora torchio presente l'ultima news da lignano nasce un tra le liste civiche per la corsa al nuovo sindaco lignano si prepara alle prossime elezioni che appunto dovranno dare un nuovo sindaco alla città visto che l'attuale luca fanotto sta concludendo il suo secondo percorso mandato quindi fanotto non potrà più essere rieletto ancora ci sono i nomi dei rappresentanti andiamo subito a pordinone con l'edizione ancora del messaggero veneto buongiorno 7 e 24 del mattino ma diamo la buona giornata anche a chi è collegato con noi durante la replica poco dopo le ore 8 e 30 da pordenone per quanto concerne questo invece giornale edizione di oggi si riparte con la raccolta plastica carta dio cassonetti si partirà giugno ci sono le prime proteste si inizia con la zona nord sud poi quartieri ultimo ci sarà il centro gea ricorda siamo pronti ad informare alla loser abbiamo l'allarme staccato da due anni dopo i furti vandalismi disputa in aula il comune che accusa la dirigente ora in consiglio cibin era guasto e non è mai stato riparato la replica poi dicono invece funziona ma non era attivato lo stato passivo presotto ammessi si dice 100 creditori i primi 100 creditori per 11 milioni di euro il fisco ne chiede quasi 6 l'inps 1 in arrivo altre 130 istanze imposte non pagate tre municipi parliamo di brugnera prata e anche di milano l'evento oggi torna in piazza una vita da social contro il cyber bulli accanto vietata la gara in nazionale il caso mifri ea roma il coni fvg che coinvolge pure la fidel rispetto anche a questa vicenda pagina vicino si torna con i riflessi della guerra in europa e quindi ancora solidarietà e raccolta come in pandemia e come nel 1976 la gente accorre ad aiutare gli ucraini il comune capoluogo ha già messo a disposizione pordenone 45 posti di accoglienza per profughi il comune poi di valvasone ha recuperato quelli in austria importandoli quindi accompagnandoli in provincia pagina seguente il volontariato in lutto abbiamo l'addio a italico tubero simbolo della operaia lo storico ex presidente deceduto a 93 anni ha legato la sua vita il suo percorso al comune anche al sodalizio pordenonese l'opportunità ne refocus un progetto dedicato alle donne o coordenons ci spostiamo usciamo da pordenone andiamo nei vari comuni velocemente l'economia spiegati i ragazzi abbiamo un gioco per educarli al riciclo alla società che gestisce l'impianto del vincieruzzo organizza queste lezioni legate all'ambiente gli studenti delle scuole medie vengono coinvolti in una sfida sulla raccolta differenziata ma anche soprattutto poi al recupero a porcia bici plan consegnato in municipio 356 hanno risposto al questionario siamo nel comune di sacile qui ci si occupa subito della ferrovie che bloccano i lavori della gronda si ripartirà a settembre parla ceraolo che dice è il risultato di una riunione fiume con tecnici l'azienda non vuole limitare il traffico sul venezia unide sotto le reazioni il progetto della nuova sanità solo carniello approva il piano richiama perfettamente il modello della sacile 2.0 comitati opposizioni sono contrari non ci facciamo illusioni dichiarano è stata solo una passerella aviano si entra nel comune si parla di tre medici verso la pensione lascerà anche guido lucchini numerose le incertezze sul futuro della sanità ad aviano se ne parla la casa dello studente l'incontro promosso dal centro sinistra angela tassan dice i servizi sono da salvaguardare il caso storica ghiacciaia sempre più in degrado l'appello per salvarla ad aviano mentre a caneva abbiamo il concorso fumetti da ridere caneva cerca il re della satira azzano decimo il nuovo distretto legato al commercio sei comuni che siglano questo accordo sottoscritte in municipio una lettera d'intenti l'organismo ora diventa operativo il progetto prende le mosse della recente legge del friuli venezia giulia sviluppo impresa a pasiano multe non pagate ammontano a ben 65 mila euro però in arrivo ci sono le cartelle esattoriali per chi diciamo ha così simulato di scordarsi di pagarle valvasone arzene ci sono fiamme incendio cronaca un'auto gpl prende fuoco nel garage in salvo grazie ai propri vicini di casa la proprietaria ha acceso la chevroleta gpl per riscaldarla è tornata in cucina e poi subito i residenti che hanno visto le fiamme alte hanno mobilitato i pompieri sul posto pure i carabinieri purtroppo riferiscono i vigili del fuoco i danni sono ingenti sia la struttura del garage sia l'automobile che è andata distrutta san vito al tagliamento abbiamo uno stop alle esondazioni via greste al centro ci sono nuovi interventi i lavori effettuati anni fa sono stati praticamente inutili non sufficienti e quindi incontro tra comune residenti per andare a illustrare il progetto che dovrebbe così metter freno alle esondazioni quindi più sicurezza per la popolazione casarsa si della giunta alla clarotto a bilancio programmi poi gli ultimi anche del mandato a spilimbergo gallerie due nuove rotatorie ecco la bretella di barbeano presentato all'amministrazione un progetto di fattibilità del collegamento viario due chilometri di tracciato per dirottare i camion nella regione qui stanzia ben 20 milioni di euro tramonti di sotto ripetitore resta acceso bidoli vigileremo per evitare problemi l'ultima pagina riservata anche a maniago andiamo a vedere insieme l'ultima notizia un nuovo nido grazie ai fondi del piano nazionale carli che lancia il nuovo progetto il comunale arcobaleno ospita al massimo 35 bimbi non può essere ampliato comune dice ogni anno le richieste di iscrizione superano anche i posti disponibili poi in breve formazione maniago domani si inizia il corso per addetti ecomuseali e sempre comune di maniago esposito verso il voto dice tanti cantieri aperti tutti insieme miracolo delle elezioni un po di ironia per cercare anche una risposta a questa domanda noi ci fermiamo grazie per averci seguito fino a qui ancora una volta la segna stampa si conclude con l'edizione del 9 marzo 2022 ringraziamo tiziano campigotto che si è occupato della parte tecnica si trova energia salutiamo e ringraziamo tutti voi e quanti soprattutto ci hanno inviato i messaggi tanti anche oggi oltre 300 i feedback abbiamo ricevuto continuate a farlo anche nei prossimi appuntamenti vi auguriamo una buona giornata grazie a tutti